Questo 16 aprile è una data così carica di significato, ci riporta indietro a 86 anni fa anche, al giorno in cui in Baviera è nato il piccolo Joseph Ratzinger, all'alba di un sabato santo, alle prime luci di quel sabato santo del 1927. Noi vogliamo dire buon compleanno, Santo Padre Emerito Benedetto XVI. Santo Padre. Santo Padre. Santo Padre Emerito, non c'è bisogno. Papa Emerito, Pontefice Emerito, ma è Santo Padre e lo resterà per sempre. Per noi questa è l'occasione per dar sfogo un po' dei nostri sentimenti persuasi che questo non significhi far torto a Papa Francesco, anzi amare un Papa e amare il successore, amare il successore e amare tutti i predecessori. e quindi io direi di cominciare con un testo che mi pare sia... Io direi proprio di sì perché questa è una lettera che ci è arrivata in redazione da parte di una nostra telespettatrice e poiché stamattina c'è Eugenia che ci accompagna in questo percorso, volevamo dar voce a questa lettera. Eugenia, conducici allora all'interno di queste parole della nostra telespettatrice Francesca. Francesca, di cognome? Non ce l'abbiamo, resta... Non ce l'abbiamo. Forse volutamente... No, 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 no. È Francesca Bonaiti... Che ci scrive... Di Bornato da Brescia. Da Brescia. Ascoltiamola. Ho partecipato all'udienza generale di Papa Benedetto XVI il 6 giugno del 2007. Quando ho visto a pochi passi da me il Santo Padre, avevo letteralmente il cuore in gola. La dolcezza e la tenerezza del Papa mi hanno come avvolta in una nube di gioia. Chi ha detto del Santo Padre che è un uomo freddo e distante, non ha capito proprio niente. Perché avere nei propri occhi quelli di Papa Benedetto è come gustare un anticipo di paradiso. Ho pianto quando l'elicottero si è staccato dal suolo del Vaticano. Il mio pater Amabilis aveva preso su di sé la croce e stava avviandosi all'ultima stazio di quella personalissima via Crucis. Lui che ha incarnato vividamente quanto detto dall'Apostolo Paolo. Quando sono debole è allora che sono forte. Grazie Padre Santo. Ti voglio tanto bene. Queste sono le parole di Francesca. Parole che ci hanno emozionato. Avere nei propri occhi quelli di Papa Benedetto e gustare un anticipo di paradiso. La lettera che ha letto la nostra Eugenia è semplicemente un pezzo, una lettera molto lunga. Tu hai il cartaccio, direttore, perché sono curioso. Ho il cartaccio e anche evidenziato in giallo le parti belle, ma era una lettera molto lunga. E in televisione non ci si può permettere letture lunghe. Però voglio dire che è una lettera scelta dal mazzo. Non è una lettera casuale. Un Papa può fare anche questo. Cioè può anche rivoluzionare la vita di una persona. Ciascuno di noi, d'altra parte, se ci pensa bene, ha avuto nella propria esperienza, nella propria vita, qualcuno che gli ha cambiato le sorti. E per Francesca questo è stato Benedetto XVI. E probabilmente non è la sola. Papa Benedetto ha fatto anche questo. Il mite, l'umile. Ricordiamo che Papa Francesco, andandolo a salutare, gli ha portato in dono la Madonna dell'umiltà. Il Papa mite, il Papa umile, il Papa delicato, il Papa tanto signore da apparire indifeso. Ma oggi, sulla scia della lettera di Francesca, io vorrei che ci lasciassimo prendere dalla nostalgia. Nostalgia è una parola forse non capita subito. Nostalgia non vuol dire rimpianto. Nostalgia vuol dire, etimologicamente, voglia di tornare a casa. E non mi pare sia una stranezza aver voglia di tornare nella casa che abbiamo abitato per otto anni. E l'abbiamo abitata con entusiasmo, con gioia, con convinzione. Persuasi che fosse il tetto, la casa, il tavolo più bello a cui potevamo sedersi. E noi dobbiamo pensare che ogni Papa ci appare insuperabile mentre è nell'esercizio delle sue responsabilità. A me è capitato di pensare questo, lo ricordo nitidamente, con Paolo VI. Mi sembrava il non s'ultra dei papi. Poi ho provato questo con Giovanni Paolo II. Mi sembrava il non plus s'ultra. Ho provato questo con Benedetto XVI. Mi sembrava il non plus s'ultra. E quindi mi sono convinto che ogni Papa è il dono più grande che Dio può fare ad ogni epoca. Però Dio è Dio. Dio è Dio. E Dio vede oltre il nostro sguardo. E Dio prepara sempre gli uomini che sono necessari per domani. E quindi non dobbiamo stupirci se dopo un Papa ne viene uno leggermente diverso o molto diverso. È sempre Dio che fa tutto. Dio che sceglie un Papa e che sceglie il successore. E entrambi sono per il bene della Chiesa. Ed entrambi ci innamorano perché entrambi sono uomini di Dio. E in essi si riflette la fantasia di Dio. Per cui non mi vergogno di dire che a me è parso in alcuni momenti davvero un Papa insuperabile. E noi non dobbiamo temere di amare Benedetto XVI con la paura di fare torto a Papa Francesco. Così come non dobbiamo avere paura di amare Papa Francesco temendo di far torto a Benedetto XVI. Il cuore non è uno spazio confinato dal reticolato. Il cuore è uno spazio miracoloso che si moltiplica amando. Si moltiplica non in estenuazione. Cioè quanto più ci facciamo stare persone, tanto più amiamo in maniera blanda. Al contrario, quanto più gente entra, tanto più li amiamo con intensità. E così amare un Papa non significa non amare o deprezzare l'altro. Significa amarli tutti, amarli ciascuno, nella specificità che Dio ha assegnato a loro. Noi amiamo Benedetto XVI, noi lo amiamo. Lo amiamo, vorrei dire, oggi più di ieri. Oggi che è solo più di ieri che era in compagnia ed era cercato, circuito, lusingato. Gli si faceva una corte infinita. Oggi praticamente è solo, solo non perché sia volutamente lasciato solo, ma perché egli ha scelto la solitudine. E questo è un motivo in più per noi, per amarlo. C'è qualcuno che, osservando le ultime immagini di lui, viste in occasione della visita di Papa Francesco, ha detto che sembrava deperito, sembrava un Papa allentato nei riflessi, eccetera. Qualcuno facendo le solite diagnosi a distanza ha parlato di shock da pensionamento. Io non so come stiano le cose. Padre Lombardi si è preoccupato ultimamente di precisare come dopo le prime settimane di evidentemente scombussolamento, perché veniva da tanti anni di superattività. Ora il Papa Benedetto si sta riprendendo e sta impegnando e occupando tutte le sue giornate esattamente come aveva previsto. Noi non siamo curiosi, perché noi sappiamo che i Papi sono nelle mani di Dio e quindi ci fidiamo enormemente. Però lo vogliamo ricordare come il Papa delle Vette. Il Papa delle Vette. Cioè? Non perché ci è andato con i suoi piedi, come faceva Benedetto Giovanni Paolo II, ma perché indicava senza sosta, senza sosta la vetta. Noi lo ricordiamo come il Papa delle Vette, il Papa del silenzio, il Papa della discrezione, il Papa della riforma più difficile, quella che parte dal nostro cuore. Il Papa che sapeva andare controcorrente e lo faceva con finezza, con delicatezza. Un Papa maestro come pochi, maestro profondissimo, un pedagogo come quelli che sono necessari nei momenti di passaggio, come nel periodo ellenista, la Chiesa ha avuto bisogno di grandi pedagoghi che conducessero dall'epoca romana all'epoca cristiana. Così abbiamo avuto lui che ci ha condotti dal relativismo più spinto a un rapporto razionale con la modernità. Abbiamo avuto un Papa dal magistero insuperabile, un Papa agostiniano che più che guardare, che dogmatizzare il pensiero, lo ha trasformato in ragioni di vita, senza divaricare il Cristo storico dal Cristo teologico. è un Papa che è stato se stesso fino in fondo, che non ha avuto paura del confronto impareggiabile con il suo predecessore che ha amato come solo lui lo poteva amare. Ha scelto di essere se stesso e nel momento in cui si è sciolto nell'essere se stesso, pensiamo alla GMG di Colonia, egli è stato apprezzato e amato proprio per ciò che egli rappresentava. È un Papa che non ha mai abbandonato la sua postazione, che è sempre rimasto legato, fissato alla parola di Dio, non ha mai mollato dalla parola di Dio e a partire dalla parola di Dio ha giudicato tutto ciò che andava giudicato del nostro tempo. Che gli altri capissero o meno, lui non si è mosso dal suo punto di vista. E piuttosto che cedere, piuttosto che abbandonare il suo punto di vista, piuttosto che scendere a compromessi o piuttosto che attenuarlo per ragioni dell'età, piuttosto che, come dire, sbiadirlo per ragioni di salute, ha preferito abbandonare il campo. Cioè è un Papa della riforma, di una grande riforma, lui che è stato il carabiniere dell'ortodossia da cardinale. Perché? Perché egli è stato se stesso secondo la sua missione in ogni stagione. E da Papa ha riformato il pontificato in termini interiori, preparando, preparando la riforma interiore ed esteriore che ha cominciato a fare Papa Francesco. Qua a un certo punto noi vedremo, il Signore ce ne darà dono, noi vedremo la parabola di questi anni, magari quando saremo lassù, e vedremo come tutto ha un senso, come tutto si collega. Ecco perché dobbiamo amare ogni istante di questa vita. E allora lasciaci concludere solo dicendo Buon compleanno, Papa Benedetto. Buon compleanno. Ricordo in una delle ultime messe, forse nella messa di prese in possesso della Catedrale del Laterano, il nostro Don Filippo Di Giacomo, che commenta in modo insuperabile le messe, ha detto che gli risulta che il Papa segua i momenti principali della vita della Chiesa dalla nostra emittente. A me questo non risulta, ma io sono un povero laico, lui è un ecclesiastico introdotto, e quindi è una notizia che io prendo per buona. Non ho la pretesa che il Papa Emerito Benedetto ci stia seguendo adesso. Spero però che in un modo o nell'altro gli arrivi l'abbraccio di questa comunità televisiva, che è l'abbraccio di tutta la comunità ecclesiale italiana. Papa ti vogliamo bene. Papa ti vogliamo bene. Grazie al nostro direttore Dino Boffo.